Alta Moda Furs, come un diamante incastonato nella splendida cornice di Piazza Barberini, riflette i suoi raggi di moda in tutto il mondo. Le sue pellicce made in Italy danno risalto alla donna di stile, chiama la ricercatezza. 500 capi di pellicceria sempre disponibili. Visita il nostro atelier, rimarrà sbalordita dalla professionalità, dalla scelta dei colori e dalla modellistica. Entra nel nostro shop online www.romapellicce.com Alta Moda Furs, Piazza Barberini 13, Roma. Grazie a tutti.